Mercoledì 13 marzo Giuseppe Pambieri è stato l'ultimo ospite di Attori con Te. L'attore protagonista al Teatro Novelli con lo spettacolo La coscienza di Zeno ha chiuso la rassegna di conversazioni con autori e interpreti condotti e moderati da Francesca Fabri Fellini, un progetto da lei fortemente voluto. Perché ne parlavo da diversi anni di riprenderli questi incontri e credo che sia bellissimo poter entrare nella vita degli attori e toccarli con mano proprio da vicino attraverso le loro storie di vita le difficoltà anche che ci sono nelle compagnie, nella vita quella dell'attore di teatro che è la vita secondo me più faticosa in assoluto proprio nelle trasferte, nello spostarsi però credo anche che sia la magia il lavoro più bello che si possa fare quello dell'attore che può cambiare attraverso le maschere tanti personaggi a 360 gradi nel corso della sua vita. Un'esperienza significativa quella vissuta dal pubblico più di 500 persone hanno seguito gli incontri ed è la giornalista romagnola che nel ricordare gli incontri con te ha sottolineato le emozioni e lacrime di Giuliana Loiodice protagonista di Così e se vi pare commossa nel ricordare il suo compagno di una vita, Roldo Thieri o di Lunetta Savino, alle parole mai confidate prima di Solfrizi suo compagno in due di noi altre emozioni poi con Giuseppe Pambieri che ha raccontato di sé, della sua compagna di vita e della cagnolina che hanno adottato insieme. Quindi si capisce veramente chi sono persone che amano gli animali che soffrono, che amano nella vita che fanno team, fanno gruppo quindi gente come noi e credo che questo resterà per sempre con me perché poi nella stretta di mano che ci diamo quando loro ritornano nei loro alberghi quando loro ritornano per una nuova serata e quindi la vita che continua ci diciamo grazie è stato bello ed è stato un momento che diventa indimenticabile per me è stato altamente arricchente io dico sempre spegnete la televisione e andate a teatro perché il teatro è emozione allo stato puro a teatro è emozione allo stato puro a teatro è emozione allo stato puro